I paesaggi, i luoghi, i monumenti, in definitiva le bellezze reggiane, protagonisti di un nuovo percorso di più vita agli anni, una iniziativa di Hauser Provinciale di Reggio Emilia presentata al Multiplo di Cavriago. Vera Romiti, vicepresidente di Hauser Provinciale, più vita agli anni, un programma che va avanti ma lo vogliamo mettere in rilievo con un indirizzo diverso. Un indirizzo prettamente culturale, dopo essere andati in cerca delle eccellenze gastronomiche e alimentari del nostro territorio, adesso andiamo in cerca delle eccellenze paesaggistiche, monumentali, artistiche, museali, di cui il nostro territorio è veramente molto ricco. Questo itinerario comincia oggi in questo luogo dove si assomma la cultura, la storia, la cura del territorio, dove anche i nostri volontari collaborano per tenere sempre più importante, sempre più vivo, sempre più al centro dell'attenzione di tutto il paese ma di tutta la provincia e anche della regione, questo luogo veramente unico. E a questa iniziativa incontriamo Paolo Burani, sindaco di Cavriago. Intanto la collaborazione con Hauser, il valore del volontariato? Beh, la collaborazione con Hauser si perde davvero nella notte dei tempi, nel senso che è un'associazione con cui abbiamo sempre lavorato tantissimo. Noi li dobbiamo ringraziare anche questa volta perché la sensibilità che hanno, il coinvolgimento che hanno delle persone, fanno dei servizi fondamentali per noi. Diciamo che rimanendo nell'ambito del centro culturale del Mutipo, questo splendido giardino è curato da loro. Quindi se non ci fossero loro, tante cose a Cavriago non si farebbero. Siamo con Marco Ottolini, volontario di Hauser a Cavriago. È proprio Cavriago, padrona di casa, in questa occasione per presentare un progetto. Qual è la ragione, quali sono le motivazioni che danno, diciamo, l'inizio di questo percorso da qui? A Cavriago, al Multiplo, perché Hauser è un partner importantissimo per il Multiplo. I volontari di Hauser curano questo parco, che è un parco storico, tra l'altro ricordiamo per Cavriago, quindi per noi è un orgoglio. E anche perché insieme al Multiplo vengono fatte diverse iniziative in collaborazione con Hauser. Questa è una delle più importanti, però ne facciamo molte anche in ambito locale. Ecco, parliamo del rapporto di Hauser, dei volontari Hauser, con la promozione della cultura. È importantissimo perché noi riteniamo che la cultura sia fondamentale ancora nello sviluppo di una comunità come la nostra e questo è un luogo che è deputato alla cultura, che va oltre lo spazio di Cavriago e oggi ci fa piacere farlo conoscere a tutta la provincia. Gian Maria Manghi, Presidente della provincia di Reggio Emilia. Valorizzazione del territorio. Ma credo che sia innanzitutto una dimensione culturale del nostro vivere quella di conoscere, comprendere e assaporare il valore che ha un territorio che nelle sue diverse espressioni, dalla montagna alla pianura, passando attraverso il capoluogo, quindi la città, offre davvero tanti scorci di identità, di storia, di attrazione positiva che molto, molto sapientemente Hauser valorizza all'interno di un progetto. C'è un particolare apprezzamento per un'iniziativa che credo alla fine consegnerà ai partecipanti un vissuto e una conoscenza più raffinata di quello che è Reggio Emilia nelle sue varie espressioni.